Centro Metalplastica a Roma è da anni garanzia di professionalità. Centro Metalplastica a Roma Centro Metalplastica a Roma è aperto, taglio termico, legno alluminio, PVC, verande, zanzariere, ma anche cassonetti, porte blindate, tapparelle in alluminio e in PVC con ogni tipo di motorizzazione. Per i tuoi infissi a Roma e provincia, contattaci al numero 06 414 00 562 per informazioni o per ricevere un preventivo gratuito e senza impegno. Centro Metalplastica a Roma